buonasera ben ritrovati con il telegiornale nella lingua dei segni maltempo nel golfo di napoli il mare agitato oggi ha impedito agli aliscafi di partire la protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo in vigore dalle 20 di oggi venerdì alle 20 di domani sabato sono continuate oggi a succhivo le ricerche di antonella di massa la donna di 51 anni di casa micciola scomparsa da sabato scorso la sanità a procida sono stati ridotti gli ambulatori e i medici del pronto soccorso fanno i turni di 24 ore lo ha sottolineato il dottor giacomo retaggio per il rilancio del turismo ad ischia bisogna allungare la stagione lo sostiene l'assessore regionale casucci stasera alle 21 e 10 teleischia trasmetterà uno speciale con un'ampia intervista rilasciata da ottavio bianchi ex calciatore e allenatore del napoli 15 atleti del marathon club dell'isola d'ischia prenderanno parte alla napoli city half marathon la gara di 21 chilometri con 5.000 podisti grazie per averci seguito buona serata grazie